Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Mi ha realmente colpito un passaggio di una trasmissione che ho visto poi in rete di La 7, un passaggio nel quale Paolo Mieli, uno dei principali precettori dell'ordine neoliberale e globalista contemporaneo, politicamente corretto si intende, ebbene proprio lui Paolo Mieli con il suo solito garbo e i suoi soliti metodi distinti e di gran classe nel modo di porsi, diceva sostanzialmente che l'episodio di Sanremo, la GAF di Sanremo, titolava il passaggio sul sito di La 7, la GAF di Sanremo ha mostrato a Zelensky che l'Italia non è un paese affidabile. In sostanza la tesi di Paolo Mieli è che questo modo con cui si è affrontata la questione di Sanremo, dove prima doveva essere presente in videocollegamento e poi invece si è letto un suo messaggio alle due di notte, ha rivelato a Zelensky che l'Italia non è un paese affidabile. Quindi il punto di vista di Paolo Mieli, se interpreto bene che l'Italia è stata poco affidabile e leale con Zelensky, dovrebbe quasi chiedergli scuse e farsi perdonare perché in fondo Zelensky è un eroe della libertà e della democrazia e quindi bisogna a tutti i costi sostenerlo e non ci si possono permettere GAF come quella di Sanremo. Forse si sarebbe dovuto mettere in prima serata a leggere un sermone in collegamento o magari chissà bisognava addirittura affidargli direttamente la conduzione del festival di Sanremo al posto di Amadeus di modo che potesse presentare le canzoni e tra una canzone e l'altra lanciare messaggi bellici, dateci più armi, mandate più uomini, mandate i carri armati. Chissà, forse era questo un po' il progetto per essere realmente leali e corretti con il guitto Zelensky. Ecco, quello che stupisce anche dalle parole di Paolo Mieli è questo grado di subalternità ostentata verso il guitto Zelensky. Ora, il guitto Zelensky, finiamola di presentarlo come un eroe della libertà e della democrazia, è uno che ha detto che la guerra dovrà proseguire fino a che la Russia non sarà stata sconfitta, quindi ci ha detto che non vuole saperne di pace, ci ha detto a Pertis Verbis che il suo obiettivo è portare la guerra fino alle estreme conseguenze e a questo punto difficile non immaginare che dietro di lui si agiti la mano di Washington. Insomma, mi tratterrei dal celebrarlo come un eroe e dal dire che l'Italia ha tradito la lealtà a Zelensky. Ecco, l'Italia forse avrebbe da subito dovuto tenersi a distanza da Zelensky e mantenere una posizione di neutralità, come peraltro la Costituzione all'articolo 11 prevede, dato che va di moda elogiarla senza leggerla, elogiarla quanto più la si elogia, tanto meno la si legge e tanto meno la si applica. Ecco, questo andrebbe detto.